Black Ops è tornato Sei pronto a nuove battaglie multigiocatore con i piedi per terra? Sei pronto per Blackout? Una nuova esperienza multigiocatore in stile Battle Royale Ambientata nell'universo di Black Ops Ma soprattutto sei pronto con uno dei tuoi video a diventare Uno dei volti della community italiana di Call of Duty? Uno spazio per una nuova generazione di player e youtuber capaci di raccontare e trasmettere le emozioni di Call of Duty Partecipare semplice Un po' come fare un headshot Ok la smetto Prenotate subito il gioco per PS4 Riscattate il codice per partecipare alla beta privata di Black Ops 4 Realizzate quindi un commentario con il vostro stile Caricatelo su YouTube E inviatecelo a questo indirizzo email E ti riprendete che non cerchiamo giocatori bravi, pro player o youtuber già affermati Noi cerchiamo te Tra tutti i video selezioneremo 8 candidati che si sfideranno in una finalissima senza esclusione di colpi Ma anche in questo caso non saranno necessariamente i più forti a vincere Ci vediamo alla beta quindi In bocca al lupo ragazzi Cod 1 C'è Che cacchio incredibile Incredibili Oh ma che cacchio è uno scherzo